Elisa, ActiveTrades, come procede secondo te la giornata? Beh, la giornata è assolutamente in linea, anzi direi al di sopra delle aspettative che ci eravamo fatti, sia in termini di organizzazione che in termini di pubblico. Sta avendo un grande riscontro, tanta gente allo stand e tanta gente interessata, soprattutto alla nostra piattaforma, l'ActiveTrader, sta piacendo tanto, siccome ci stiamo investendo tante risorse e tempo, siamo veramente contenti, quindi il bilancio è assolutamente positivo. Ci puoi anticipare qualcosa sulla piattaforma, qualche novità? Sì, allora, innanzitutto ti dico, l'anno scorso vi avevamo promesso delle novità, abbiamo mantenuto la promessa, infatti a fine 2018 è stata lanciata la nuova versione della piattaforma, ci sono novità a livello di gestione degli ordini, quindi è tutto molto più semplice, molto più veloce, da ieri è disponibile anche per dispositivi Android, quindi è assolutamente, l'offerta è completa, vi anticipo anche che a brevissimo saranno introdotte due innovazioni, che sono il trailing stop progressivo e gli ordini pullback.